Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sempre dimessa, sempre gentile, però molto penetrante. Caro Marcello, oggi per la prima volta do gli tardi del tu, per dirti che resterai sempre nel mio cuore e nel cuore di tutto il cinema. Grazie di tutto. E' vero che Marcello è stato nel cinema italiano il rappresentante più... Grazie. 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 Grazie.